Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri anche io alla nostra DEA per i 109 anni di storia, di grande storia, anche se non faccio più parte dei colori nero-blu. Da casa c'è sempre un tifoso per l'Atalanta, la seguo sempre, faccio il tifo per i ragazzi. Un abbraccio a tutti e tanti auguri. Grazie.